Parto da una lastra di ottone da cui ricavo tanti coriandoli di diversa foggia, di diverso tipo, purché siano tutti diversi insomma. Dopodiché, ne faccio 1, 2, 3, 10, 20, 30, 60, dopodiché li foro da un lato e dall'altro per creare delle connessioni. Le connessioni vengono realizzate con un tratto con un pezzetto di argento 925 a cui faccio una pallina lateralmente. Dopodiché si passa alla lucidatura che richiede varie fasi, questa è quella finale, insomma quella che la rende più bella e finalmente la collana è fatta ed è anche pronta per essere fotografata e finalmente messa sulla mia pagina Etsy.